Le borse europee chiudono ampliando le perdite una giornata caratterizzata dal sì del Bundestag al piano di aiuti per la Grecia e dai timori per la situazione cinese. Il calo delle borse asiatiche ha pesato in particolare sulla Germania tra i maggiori esportatori. L'indice DAX in calo del 2,24% è stato il peggiore tra le consorelle del vecchio continente. L'incertezza generale ha frenato anche Wall Street che attende la pubblicazione dei verbali della riunione di luglio della Federal Reserve. Negativa ma con perdite meno marcate anche Piazza Affari, sostenuta dai titoli bancari. L'indice Fuzzimib ha chiuso in calo dell'1,77%.